Siamo Sara, Emanuele, veniamo da Napoli e siamo due ballerini. Siamo Alberto e Salvatore e oggi proveremo a far di nuovo ridere. Eh, certo che l'avete scelta, la canzone è giusta. Sono Venzo, vengo da Follonica e sono un attore comico. Mi chiamo Geniale e arrivo da Biella. Buongiorno da Christian De Sica, sono Alvideobox e una cosa straordinaria, delighierissima. Sono Raffaella, vengo da San Giovanni Appiro in provincia di Salerno e sono una cantante. Sono Alice e sono una cantante. Questa è la nostra vita, non potevate scegliere canzone migliore. Sono Francesco Ariemme e vengo da Orta 9 in provincia di Foggia e sono un trombettista showman. E vi suonerò dove si balla. Buongiorno da San Giovanni Appiro. 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 Non ci posso credere, il mio J-AX preferito! Non sono J-AX, l'ho detto mille volte, non sono J-AX! Eppure con la tromba! No, 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 non sono J-AX! Ma come no? C'hai la tromba, c'hai il pizzetto, sei J-AX! No, ho detto di no! E allora! Buongiorno! Sta disturbando? Buongiorno, sono Angelo Molone e vi canterò un pezzo del grandissimo Louis Armstrong What a Wonderful World! Senta, vuoi ringraziare anche J-AX lì accanto a lei? Non sono J-AX, non sono J-AX! Dai che sei J-AX, si vede, dai, dai! No! Dì la verità, non essere timido, di che sei J-AX! Non lo sono, io sono Francesco! Va bene, Francesco AX! Dai! Ahchi! Ahchi! Oh, 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 oh Vamo a la playa Oh, 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 oh Vamo a la playa Oh, oh, oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.